Ascolti TV che Dio ci aiuti 7 e grande fratello VIP, ha vinto giovedì 23 febbraio, dati audit e le share di ieri. Ascolti TV, chi ha vinto la gara tra che Dio ci aiuti 7 e grande fratello VIP? Ieri sera sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsasti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Alfonso Signorini e i suoi vipponi contro una delle fiction più amate dal pubblico. Ovvero quella con Elena Sofia Ricci anche se l'attrice ormai ha passato le consegne dedicandosi a Fiori Sopra L'Inferno e Francesca Chillemi. Vediamo chi ha vinto. Dalle 10,00 saranno trasmessi i dati audit e le lo share della prima serata di ieri. Giovedì 23 febbraio 2023. Su Rai 1 la fiction che Dio ci aiuti 7 ha conquistato 4. 084,000 spettatori pari al 21,6% di share mentre il grande fratello VIP, in onda su canale 5, ha ottenuto 2,759,000 spettatori con il 21,1% di share. Che Dio ci aiuti 7, quindi, ha trionfato nella prima serata di ieri. Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset, qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti TV di tutte le reti generaliste e i canali Sky. Ecco com'è andata. Stasera, venerdì 24 febbraio 2023, la sfida tra la TV pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente l'eredità, Rai 1, a sfidare avanti un altro, canale 5. In prime time sulla Rai andrà in onda invece The Voice Senior, mentre su Rai 2 spazio NCS. Su Rai 3 infine l'arte della guerra, documentario. Passiamo a Mediaset. Su canale 5 in prima serata andrà in onda Buongiorno Mamma 2 mentre su Italia 1 il sequel di John Wick. Chiuderete 4 con quarto grado. 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 Chiuderete 4 con quarto grado.